In questo tour della Bar California stiamo cercando di vedere il più possibile e non solo le spiagge deserte, ma oggi siamo venuti a Playa Palmilla che è una delle spiagge cittadine più famose. Non è sicuramente una delle più incasinate, però è una spiaggia con palapas gratuite. Siamo arrivati e una signora gentilmente ci ha lasciato la palapas vicino a lei che aveva occupato non si sa per cosa e quindi è stata gentilissima. Abbiamo anche l'ombra e c'è un po' di local, di turisti, c'è un ampio parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina e stiamo qui. Il mare è purtroppo un po' grossino, ma la spiaggia è super. E' tornato Matteo. Ciao! Che è all'ombra. Questa è la nostra dei vicini palapas. Abbiamo comprato una palapas per ora. Abbiamo cominciato a prendere un posto in spiaggia, poi vediamo. Questo lì è il parcheggio e di qua c'è il mare con le altre palapas. Lì ci sono grandi hotel con spiaggia privata e se mi faccio venire voglia di fare una passeggiata vi porto lì. Vi porto con me a fare un giretto. Allora, spiaggia, mare, pulito eh, limpido, però è mosso e quindi rende meno. E anche la spiaggia è pulitissima. Devo dire che rispetto ad altre spiagge del nord che non sono turistiche, che sono abbandonate. All'inciviltà questa è pulita. E poi di qua, ok, così si vede, c'è invece la parte degli hotel e quindi ci sono i lettini con balloni. Laggiù si vede tutta la città di San Jose del Cabo. Playa Palmilla non c'era nessuno che dormiva e quindi ci siamo poi spostati. Adesso siamo venuti qui a Playa del Tule dove c'è musica, un camper. Può si vede? Noi parcheggiati qui. Le palapas e la spiaggia. Speriamo in bene. Speriamo in bene. Siamo arrivati a Cabo San Lucas e in un batter doppio siamo già su una barchetta che facciamo un diretto. Andiamo a vedere l'arco, la spiaggia dell'amore e del diavolo. Lo sapevi? Che ci sono due spiagge, quella dal lato del Pacifico e quella del diavolo perché è quello più agitato. Invece quella interna è la spiaggia dell'amore perché è molto più tranquilla. Leone marino spiaggiato come a San Francisco. E' bello. Qua c'hanno il fondo trasparente e anche qua si vedono i pesci, tantissimi! Questa spiaggetta di cui non ho capito il nome proprio fuori... Ah, la spiaggia del Pellicano, ho il suggeritore, qui con lo spagnolo Matteo va fortissimo e quindi mi suggerisce. La spiaggia del Pellicano perché ci sono i pellicani, c'è però tantissimo pesce, tutti quelli che non abbiamo visto oggi. Sono tutti belli! Questa qui è la Playa del Amore, quella dal lato interno. Di là c'è il Pacifico, qui è dove si incontrano i due mari, il Pacifico e il Mar di Cortez. E c'è l'alco, se non finiamo a scogli perché ti convinchi molto. Qui inizia l'Oceano Pacifico, ufficialmente, questa roccia non era la spiaggia del diavolo, era quella del divorzio, mi sono sbagliata, quella dell'amore e del divorzio. Qui si balla, ma non è così calmo. Si è rienta in foto. Grazie. Matteo quando va in barca deve avere tempo. Deve sempre avere il culo bagnato. E' anche uscito il sole adesso, così ci fa cuocere. Il capo, il cabo, barchette notevoli, tesca, barche da turismo, pieno di locali. Sì, anche qui è completamente un altro mondo. Siamo tornati all'Happy Hour dalle 2 alle 5. Ma come si fa, come si fa qui perché sono tutti americani, non puoi fare l'Happy Hour dalle 2 alle 5. che bello ufficio tiene la marina di Cabo San Lucas, a forza di parlare in spagnolo, riesce e tiene al posto che ha. Ho fatto un acquisto, braccialettino con le perline come quello di Matteo e qua si continua in questa barra onda di gente, casino, locali. E qui c'è già l'albero di Natale, per noi fa un po' impressione, non abbiamo ancora capito che siamo a novembre. Anzi, che siamo quasi a dicembre. Ci sono anche le agoste diverse. Questo marina è veramente bello, bellissimo. Già da quando entro in un marino e vedo le barche, il mare si illumina dagli occhi. Non so cosa vuole dirmi. Ma, prossima vita, giro del mondo in barca. Parliamo, no? Ah, ok. Qui c'è una gara di pesca. Ah, ok. Ha fatto il controllo del linguaggio del linguaggio del linguaggio del linguaggio delle situazioni. Ah, ok, tu lo sai, un nuovo lingamismo per fare. Gli finti di sanità. Poi è così. Ah, per ciò. Evagano la giornata. Questa in sessiono, effettiva il linguaggio del linguaggio delle situazioni di normally. Questa in sessioni. Alla prossima. Passiamo in un marino autorevole da Rocca. e la si vede il pesciolone. c'è un casino via vai di barchette. per il tramonto sono tutti sulla spiaggia, un casino! e qui c'è il pacifico, qui a Cerritos è tutto sterrato, una strada terribile e poi ci sono degli hotel extra lusso qui nel nulla qua ci sono i cactus nel parcheggio questa è la spiaggia dei surfisti in acqua non ce n'è neanche uno, però qua di tavole da surf ce ne sono tantissime non ne vedevo neanche uno, ah no ci sono! musica 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 è solo le undici e mezza e ha chiuso c'è solo più il tipo degli smoothies che è gentilissimo ma non fa il caffè non c'è nessuno a cui chiedere non si capisce niente se qui le liberano se ci sono è tutto abbandonato uffa siamo a Todos Santos stiamo gironzolando siamo alla caccia delle tartarughe perché assolutamente veloce che non possiamo raggiungere perché degli altri viaggiatori che sono qui in Bah che abbiamo conosciuto hanno pubblicato un video dove vedono le tartarughine che entrano in acqua e io mi ero messa cuore in facce perché dicevano che fino a metà dicembre non le liberavano e invece quando ho visto questo video della scorsa settimana e ho rimesso tutto in discussione perché siamo qui e non vediamo le tartarughine ma qui non si capisce niente quindi siamo già andati in un Tortugheros ma era chiuso ci hanno detto che bisogna tornare alle 5 perlomeno per capire se c'è qualche speranza di vedere le tartarughine allora stiamo gironzolando per Todos Santos sono le 3 in quarto per far venire alle 5 per ritornare per la seconda volta sulla Plaitas e vedere se per caso riusciamo a vedere le tartarughine adesso qui andiamo a cercare il famoso Hotel California costruito nel 1948 cambio programma forse abbiamo trovato le tartarughine che rilasciano oggi alle 4 quindi sono le 3 e mezza quindi cambiato programmi perché per caso su Google ho trovato questo gruppo Tortugheros che ho chiamato e mi hanno detto se ho ben capito che le liberano alle 4 quindi ritorniamo di corsa alla macchina e andiamo su questa spiaggia sperando di vedere le tartarughine sono sempre delle belle strade per arrivare su queste spiagge e il vantaggio è di avere un 4k sì è una macchina piccola anche questo è il posto dove dovrebbero esserci la tartarughine infatti dovrebbero però vi volevo far vedere la vegetazione su questa spiaggia date i fiorellini sono qua in mezzo non so se si vedono eccoci rettifico ti danno il ciotolino e ti chiedono 100 pesos a tartarughina come contributo per tenere in piedi tutta questa questa cosa 100 pesos sono 5 euro si va bene va bene mettiamogli una mano va bene almeno vediamo le tartarughine è arrivata un sacco di gente non ce le aspettavamo invece adesso si sta popolando quindi vedremo tante tartarughine che cosa stas che cosa stas che cosa stas che cosa stas eccole però bene non c'è molta gente che diciamo venganci per aca vanno a chavarli un ratito e dopo vanno a liberarla ok comparado al lunes passato si stiamo solito che stiamo facendo eh ok la piccola la piccola e la più grande la più piccola la più piccola la più piccola si quanti giorni hai quanti giorni hai di incubazione no di aver salito come 45 minuti 45 minuti si salito del uevo del nido del uevo ok si quindi adesso fa questo segno dove bisogna metterle non si possono toccare perchè portano la salmonella e quindi bisogna metterle dietro la linea e poi loro prenderanno il mare la nostra l'abbiamo chiamata la rangerina quando la troveremo adesso vediamo quale ci da non sappiamo se è un maschio o una femmina però rangerina o rangerino speriamo poverine speriamo di non passare non ci sono due ok rangerina alla fine sono un maschio o una femmina aspetta un maschio o una femmina rangerina o rangerino due due tre tre aspetta aspetta una due tre ora ora se vogliono l'acqua che non vogliono una gaviotta andate forse sono un po' da aumentate su su sono 40 minuti che sono nate pensate e già stanno correndo verso il loro vestito dai 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 forza si mi mangiano forza 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 le tartarughine hanno 45 minuti di vita sono appena schiuse e stanno correndo verso l'oceano dai 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 ne è rimasta solo una laggiù che non entra in acqua tutte le altre ce l'hanno fatta adesso galleggeranno per tre giorni e poi inizieranno a nuotare quindi saranno esposte al pericolo di tutti gli uccelli i pellicani i granchi chiunque le mangia ste povere tartarughine per i prossimi tre giorni e poi si spera che riescano a nuotare e quindi a difendersi pian piano sempre di più qui si intravede il segno che hanno fatto per scendere a e a 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 Grazie per la visione!